Stamattina hai provato il percorso, cosa ne pensi? Sarà un percorso veloce, ci sarà un evento domani, in più parti un po' laterale, in diversi a favore. Speriamo che le gambe riportino buone sensazioni e vediamo di giocarci meglio le nostre carte. Tu come ti senti? Al momento bene, sarà da vedere domani in gara se le gambe saranno quali dei giorni migliori. Oggi abbiamo avuto un po' di test positivi, abbiamo fatto un po' di momenti a spingere il rapporto, ottenere la velocità costante. Vediamo però domani. La pressione ti carica o ti crea problemi? Non la sento, siamo tranquilli, vediamo domani. Perfetto.